Amore, amore, amore mio e lo dico, come ti senti? Sono molto felice, sono molto contenta, insomma, come ho appena detto, di fare questa esperienza. Speriamo bene, io intanto mi impegnerò a fare del mio meglio e andiamo avanti così. Sei la favorita, la più gettonata nelle radio in questo momento, ai primi posti? Mi fa molto piacere perché è stato amore al primo ascolto di questa canzone, quindi sono contenta che piaccia anche al pubblico, anche perché è fatta proprio per essere ascoltata, quindi molto bene così. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie.